Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità? E quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, tv e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook. Saluto e ringrazio per essere con me Franco Fracassi, scrittore. Ciao Franco, bentrovato, buongiorno. Ciao. Allora, sotto la notizia niente, questo è il nuovo libro di Franco Fracassi che ci ha abituato a questo ritmo scandito praticamente da libri una volta al mese. Quindi questo è il libro del mese. Non dalle ragioni, questo è il libro della primavera. Primavera inoltrata, quasi estate. Inoltre inoltrata. Libro in cui si parla di informazione. Naturalmente, come tu sai, insomma, questo è un po' il mio pallino, perciò sono subito incuriosita, per esempio, dal chiederti di questi nomi che vengono ogni tanto appioppati a quelli che provano a fare anche un'informazione differente. Primo fra tutti quello di complottista che poi è associato a quello di terrapiattista. Allora, vabbè, anche cose che non c'entrano niente tra di loro, no? Però una nomenclatura per chi dissente ci deve sempre essere. Secondo te perché? E poi magari vediamo da che cosa nasce. Perché? Perché non è il modo del potere per emarginare chi dissente, molto semplicemente. Se si riesce a ingabbiare le persone dentro una casella e questa casella si infanga in tutti i modi, o meglio, si crea una casella infangata e poi si fanno entrare a calci le persone là dentro, smetti di rappresentare un problema per chiunque. Una volta creato il mondo dei complottisti, chiunque ne faccia parte è squalificato. Una volta creato il mondo dei terrapiattisti, chiunque ne faccia parte, però non ha importanza se lo sei a titolo oppure non a titolo, non ha nessuna importanza. Basta che ti viene appiccicata quell'etichetta. O anche così a passanza, senza che molti ci facciano caso. Una volta creato il mondo dei terrapiattisti, chiunque ne entra a far parte è una persona che non ha proprio titolo per parlare. Una volta creato la casella di negazionisti, che peraltro, a differenza delle altre due parole, questa è una parola realmente esistente, ha un significato ben preciso, sei infamato una volta che sei tacciato di negazionismo. Sì, ma guarda come dicevi tu, una casella realmente esistente, quindi una definizione che c'è questa di negazionista che ha un'origine storica invece molto importante. Esattamente, questa è l'unica cosa diciamo reale, ovvero che esistono dei negazionisti, cioè coloro che negano l'esistenza dell'olocausto. Questi sono i negazionisti, quindi i negazionisti sono dei nazisti, molto semplicemente, per questo è una cosa infamante che ci viene dato il nazista. Negli altri casi invece sono qualcosa che non esiste, cioè i complottisti non esistono. esistono coloro che fanno cattiva informazione e coloro che fanno buona informazione. Non esiste il complottista, cioè questa è una cosa inventata per distruggere qualcuno, anzi per renderlo del tutto innocuo, perché un complottista è una persona che non si ascolta e quindi parla a vuoto. Il terrapiattismo non esiste, nel senso che esiste un tizio, io racconto pure la storia di questa persona, che è stato un tizio che collabora per un'agenzia di pubblica relazioni, quindi è stata una cosa creata ad hoc, dice che dobbiamo fare per squalificare una parte di umanità che non è d'accordo con noi su come viene affrontata la scienza e magari anche le malattie con i vaccini e tutto il resto. Beh, basta tirar fuori il prototipo di un essere umano che non crede nella scienza, in nessun tipo di scienza, perché un terrapiattista è uno che addirittura è pre-galileiano, cioè pensa che non esista il sistema solare, non so come dire, cioè qualcuno che non è manco qualificabile in quanto lui e la scienza viaggiano su piani paralleli. Ecco, allora si crea un mondo del genere, è stato creato ad hoc un mondo del genere, c'è sempre qualche scemo che gli va presso, non importa, non devono essere tanti, l'importante è che ci sia qualche scemo, perché poi è una cosa talmente assurda essere terrapiattista, che sicuramente ci sarà qualche giornale, qualche televisione che farà dei servizi a reportage per raccontare che c'è gente matta in giro, per cui incomincia a circolare la cosa, lo sai che lì ci sono delle persone che credono in una terra piatta, ma davvero? E incomincia in questa maniera qui, uno vede un fotoreportage su qualche rivista, si vede un servizio in televisione e così via, poi ne parlano le persone, perché è una di quelle cose, è come una scimmia che si veste in frac, in smoking e va in un ristorante di lusso, tutti quanti si girano la foto di questa scimmia o il filmato su WhatsApp, tanto per dirne una, quindi la stessa cosa accade con i terrapiattisti, quindi si sa che esistono, l'importante è che la gente improvvisamente sappia che esistono, poi se sono 5 o se sono 5 milioni o 5 miliardi non fa nessuna differenza, esistono, e una volta che esiste la categoria non ci vuole niente a inserire le persone dentro quella categoria. Sì sì, beh la cosa che io ho trovato sempre più scandalosa anche nella vicenda, insomma no, che ci ha visti tutti quanti un po' coinvolti, cioè riferito ovviamente al discorso dell'emergenza sanitaria, è il fatto che poi questi epiteti vengono a categorizzare proprio tutto un insieme di persone, quindi dal complottista sei anche terrapiattista, sei anche negazionista e via così, quindi per forza dover inserire qualcuno in questo schema come giustamente dicevi tu. Altra categoria pure molto in voga è quella del gatekeeper, chi è? Allora il gatekeeper, su questo punto diciamo io sono rimasto molto sorpreso perché negli ultimi tempi molte persone parlano di questi fantomatici gatekeeper, però ne parlano totalmente se posso dire a cavolo, nel senso che gatekeeper è un termine coniato da Marshall McLuhan che è il più grande esperto di mass media della storia, il più grande filosofo e studioso di mass media della storia ed è un personaggio che ha un ruolo molto particolare, ovvero McLuhan parla chiaramente del fatto che l'informazione, perché c'è una cosa a monte, ogni giorno nel mondo accadono milioni di eventi, piccoli e grandi, che ovviamente un evento che accade in un piccolo paesino, per il giornale di quel paesino diventa magari l'evento della prima pagina, ma in tutto il resto del mondo viene ignorato, quindi accadono milioni di eventi, di questi milioni di eventi in un telegiornale ne entreranno 10, in un giornale entrano 100, quindi vuol dire che la grande maggioranza di 99,9 periodico degli eventi che accadono ogni giorno nel mondo vengono ignorati dai nostri media. Ovviamente tutta quanta, visto che quello che finisce dal telegiornale è una lunga catena, che parte da un certo punto arriva fino il telegiornale che è il terminale di questa cosa. Alla base di questa catena ci sono delle gigantesche agenzie di stampa, non saprei, la Reuters, la Sociale Press, la France Press, ci sono alcune che sono mondiali, alcune che sono invece a livello più regionale come l'Ansa e come altre, alcune sono nazionali e così via, che devono fare una selezione preventiva. La Sociale Press pubblicherà, che ne so, 10 mila notizie al giorno, 10 mila non sono milioni, deve decidere cosa sì e cosa no. Quindi ci sono delle persone che decidono cosa passa il cancello e cosa non passa il cancello, questi sono i gatekeeper, sono coloro che stabiliscono su che cosa noi dobbiamo essere informati. È un ruolo ovviamente delicatissimo ed è il ruolo chiave di tutto il meccanismo dell'informazione. Chi controlla, chi è il gatekeeper sostanzialmente ha un potere di manipolazione delle menti di tutto il mondo gigantesco, gigantesco. Perché semplicemente qualcosa, un fatto che non viene raccontato è un fatto che non esiste, è un fatto che non si trasforma in notizie. Mentre invece non so per quale strano motivo, da qualche mese a questa parte, forse un anno o così, vengono tacciate i gatekeeper, di essere gatekeeper persone che adescano in maniera capsiosa, ribelli vari in giro per portarli sulla cattiva strada. Ma più che altro… C'è un altro significato. Sì, io credo che sia più un ruolo di ambiguità, della serie stai un po' qui e un po' lì, è un po' come se tu facessi il doppio gioco. Perché guardiano del cancello, dove sta l'ambiguità di essere il guardiano di qualche cosa? I guardiani del cancello sono coloro che stabiliscono se il cancello si apre o si chiude, se una data notizia, un dato fatto si deve trasformare in notizia, sì oppure no. Sì, ma senti, tra l'altro in questo libro in cui ci sono tantissimi fatti che tu hai messo in evidenza, c'è anche appunto, e lo sottolineavi tu prima, il discorso delle fake news. Questo pure è uno di quei tantissimi argomenti dei quali ci siamo occupati frequentemente, come pure quello della manipolazione dell'informazione. Ecco, cioè la fake news oggi forse è una delle cose più temute in assoluto, quindi quando normalmente la gente si trova a avere a che fare con una notizia, è lì che si chiede ma questa cosa sarà vera, sarà falsa? Come fare per capire quando una notizia è vera o falsa? Allora, intanto sì, io racconto tanti fatti, parto addirittura da Napoleone, parlo dall'anno del cucco insomma, dopodiché sulla fake news avrei una cosa a dire, una cosa sono le notizie vere e false, una cosa sono le fake news? Fake news è un concetto, anche qui, sembrano cose irrilevanti, in realtà fanno tutta la differenza del mondo, fake news è un concetto introdotto dopo il concetto di complottista e sono due cose legate tra di loro, perché notizie vere e notizie false sono sempre esistite, nella storia diciamo. Il concetto di fake news invece no, anche se il significato è lo stesso, però che vuol dire? Vuol dire che viene introdotto una sorta di regola in base alla quale c'è un modo per verificare, un modo standard per verificare se è una notizia vera oppure falsa. Il modo standard è l'unico modo standard che c'è al di là di fare un'inchiesta che possa smentire quello che è stato raccontato dalla persona X, no? Il modo standard è quello di accedere a una sorta di, saprei, enciclopedia universale che ti permetta di dire questo è vero e questo è falso, no? Un'enciclopedia virtuale universale. E che cos'è questa enciclopedia virtuale universale? è fatta di documenti ufficiali, no? E come noi sappiamo bene i documenti ufficiali sono prodotti essenzialmente dal potere, cioè sono o sentenze della magistratura che possono anche non essere vere come è successo tante volte, non si può prendere cantonate, ma soprattutto sono fatte o ignorare delle cose, soprattutto sono i documenti prodotti dal potere. Quindi è un modo per il potere per affermare se stesso. Io scrivo una cosa, questa cosa è in totale contrasto rispetto a qualsiasi commissione parlamentare o che so io oppure ministero che afferma la stessa cosa, quindi automaticamente la cosa che io scrivo è una fake news ed è facilmente verificabile perché basta andare sul sito del ministero, sul sito del Parlamento, che so io, per verificare immediatamente la cosa. E quindi impedisce il dissenso, cioè il dissenso è questo, io non sono d'accordo con la commissione parlamentare inchiesta sull'11 settembre perché racconta un sacco di boiate, ma non ho modo di dimostrarlo perché appena provo a dirlo faccio una fake news ed è stato anche inventato un ruolo apposito, un nuovo mestiere di gente che è pagata per questo si chiama debunkers, sono delle persone che in altri tempi sarebbero, diciamo i, non lo so, le persone che gettono fango sugli altri, i calugnatori, non so, si sono chiamati in tanti modi nella storia, adesso invece hanno un ruolo, diciamo, nobilitato, si chiama debunkers e quindi sono i cacciatori di bufale. Ecco, allora tutto quanto questo sistema qui è un sistema fatto, creato dal potere per ingabbiarci. Dopodiché se mi chiedi come si fanno a riconoscere, questa è tutt'altra questione, insomma, ovviamente bisognerebbe fare un'inchiesta per riconoscere se un'inchiesta è vera o se un'inchiesta è falsa. Sì, beh, sai che c'è che molta gente dice, vabbè, ma io trovandomi nel marasma dell'informazione, come posso capire così a colpo d'occhio se una notizia è vera o falsa? Ecco, era un po' questo il discorso. Intanto il buon senso. Ecco. Lo so che sembra una cosa assurda, ma la cosa più semplice di tutto, intanto il buon senso è ovviamente la conoscenza, se uno è ignorante più facilmente, ignorante non nel senso perché è uno rozzo, ignorante nel senso che ignora di quello di cui si sta parlando, è molto più facile gabbare una persona ignorante che una persona invece che è sapiente, cioè conosce le cose. Certo. Senti, tu dici che dopo l'11 settembre l'informazione diventa un crimine, come se ci fosse una sorta di, come dire, spartiacque tra quello che è stato fino al 2001 e da lì in avanti. Sì, perché l'11 settembre è veramente uno spartiacque, cioè il punto dal quale poi parte è il concetto di complottismo, di terapiatismo, il negazionismo e l'effetto di tutto il resto. E allora, diciamo i risultati di chi cerca di bucare questo muro di gomma che è stato creato intorno alle nostre menti è o sei, questa lettera scarlata per cui vieni emarginato da tutto e da tutti, oppure vieni direttamente incriminato perché quando invece tu dimostri e lo fai in maniera clamorosa l'esistenza di qualcosa di cattivo dentro al potere, ce lo mostri a tutti, come ha fatto Assange, come ha fatto Snowden, come ha fatto Udo Ulf Cotte, come hanno fatto anche altre persone. Quando tu mostri questa cosa, a quel punto tu sei un criminale vero e proprio. Assange rischia 175 anni di carcere e in questo momento, tra parentesi, è in prigione, in una prigione di massima sicurezza, manco fosse il capo dell'Isis in Inghilterra, il Snowden deve vivere a Mosca perché altrimenti verrebbe una fine ancora peggio di quella di Assange e così via. Cioè vieni incriminato, vieni proprio, vieni perseguitato in qualche modo. Io ovviamente non mi, lungi a me da paragonarmi a loro che non c'è proprio, sono un'altra categoria, ma per esempio anche io sono stato per un'inchiesta che ho fatto sul Monte dei Paschi Siena, che si è a morte dei Paschi, il magistrato mi ha chiamato, io sono teoricamente un indagato in questo momento, ma non per diffamazione, sono proprio stato chiamato per l'orecchio e chi portava davanti a un magistrato, sto aspettando il GIP di sapere che cosa deciderà. Se deciderà di mandarmi a processo, verrò sicuramente condannato perché quello che il giudice mi chiede io non glielo posso dare, ovvero non glielo voglio dare e quindi se è sicuro che se io vado davanti a un giudice sarò condannato al 100% e sarò un criminale a quel punto, per aver fatto cosa? Per aver fatto un'inchiesta. Beh, guarda, l'hai tirato fuori tu, il caso Assange e Snowden sono sicuramente due nomi che risultano essere abbastanza familiari, soprattutto come dicevi tu, proprio per l'inadeguatezza anche la perfidia, se mi passi questo termine, con cui sono stati attaccati e tutta una serie di situazioni in cui si sono trovati coinvolti. Beh, io in conclusione vorrei con te fare una riflessione proprio su questi due casi perché credo che sia sempre importante riportare alla ribalta quello che non c'è di buono, ma ce ne sarebbero tantissime di cose non positive, però in maniera particolare in questo caso, quello che non c'è di buono da parte dei governi contro i giornalisti? Diciamo, il potere in generale non ama chi gli rompe le scatole, chi fa domande, vorrebbe agire tranquillamente senza avere fastidi, come fa trasparire per esempio Draghi, il nostro Presidente del Consiglio, in ogni occasione, non c'è occasione in cui non perda un po' di tempo per umiliare i giornalisti che sono intorno a sé, oppure fargli capire che non vuole rotture di scatole. Allora ovviamente questa cosa si può esprimere in tanti modi e la democrazia più in generale è stata costruita, anche la nostra democrazia italiana, per proteggere questi abusi di potere. Il punto è che queste cose stanno venendo costantemente picconate a livello internazionale. A livello internazionale noi non abbiamo più la disponibilità quasi di noi stessi, perché siamo oramai, grazie alla tecnologia che dovrebbe essere nostra amica, in realtà si sta trasformando nella nostra carceriera, siamo totalmente ingabbiati dentro uno spionaggio continuo a nostri confronti che consegna al potere qualsiasi cosa che riguarda noi stessi. Consegna la nostra anima, loro sanno più cose di noi di quante ne sappiamo noi stessi e ovviamente possono in tutti i modi controllarci, obbligarci, minacciarci e così via. Lo possono fare anche solo rivelando cose che noi magari abbiamo fatto o abbiamo detto, lo possono fare appunto costringendoci ad abbiurare perché minacciati in qualche modo, oppure semplicemente si trova un cavillo qualsiasi e veniamo sbattuti in galera. non è questa cosa, non accadeva così nemmeno all'epoca del fascismo e nemmeno in quel periodo lì, perché comunque non essendoci la tecnologia si aveva modo per sfuggire a queste cose, ma è il modo più pericoloso che si ha per annullare la democrazia, perché apparentemente va tutto bene e in realtà non è così, perché ti distruggono letteralmente, non ci vuole nulla distruggere l'immagine di una persona. Sì, ma la riflessione che abbiamo fatto e che tu hai fatto anche adesso riguardo a questa questione, ma poi normalmente quando si parla anche di Assange in maniera particolare, sono cose che turbano, perché probabilmente nell'immaginario ancora si ha l'idea che il giornalista abbia potere sempre, cosa che invece come sottolineavi tu è assolutamente vendace come situazione, cioè è vero fino a che non ti metti a grattare sulla superficie. Dalla cosa grande alla cosa piccola, la cosa grande è Assange, Assange che ha rivelato le schifezze che hanno fatto gli Stati Uniti d'America in Geo per il mondo, ma non solamente loro, ma proprio le ha mostrate, questa è la cosa peggiore di tutte, sono state prima accusate di doppio stupro, accuse totalmente inventate, hanno preso delle donne, hanno creato una cosa che non stava in terra, l'hanno messo gli stessi inquirenti che stavano indagando, dopo di che l'hanno accusato di rivelare le informazioni, se uno fa il giornalista, questo fa, per questo motivo di essere nemico dello Stato, gli Stati Uniti, sono cose anche qui, accuse medievali, al piccolo non saprei, un giornalista che scrive di calcio, che critica a spremento una squadra, non viene semplicemente invitato alle conferenze stampa o non viene permesso a nessun calciatore di quella squadra X, magari quello si occupa, perché a volte chi si occupa di calcio si occupa solamente di una squadra, a nessun calciatore di quella squadra X a rilasciare dichiarazioni a quel giornalista, a quel giornalista ha finito la fine della sua carriera sostanzialmente, e questa è una cosa piccola, nulla di paragonabile a Sange, ma dalla piccolo al grande, tu non puoi disturbare il potere di turno, che può essere il potere di una squadra di calcio o il potere del governo degli Stati Uniti d'America, non fa nessuna differenza, il meccanismo è esattamente lo stesso. Sotto la notizia niente il nuovo libro di Franco Fracassi che scrivi con tuo padre, che si chiama Claudio, e naturalmente anche per questo libro, ci sono un sacco di cose dentro, un sacco di cose dentro, e la modalità per avere questo libro è sempre la stessa, bisogna scrivere l'autore, una mail, la mail va indirizzata a francofracassi1 come numero chiocciolagmail.com, giusto no? Ok, come sempre! Grazie a Franco Fracassi per essere stato con me, ti auguro un'ottima giornata, ma a presto perché questo libro è foriero di molti altri contenuti che voglio indagare. Molto volentieri! Ciao! Ciao! Ti aspetto con le mie interviste su Davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.